Sette pazienti avranno una vita migliore grazie ai trapianti avvenuti nell'arco di 36 ore presso l'azienda ospedale Università di Padova. Abbiamo deciso questo per dare vita alle persone. Noi crediamo nella donazione, crediamo nel trapianto d'organo e questa è stata una grande opportunità che ci è stata offerta e che ha consentito di arrivare a un grande risultato. 120 medici e gli operatori sanitari coinvolti nella maratona organizzata in pochissimo tempo, appena disponibili gli otto organi. Erano più sale operatori che hanno lavorato in tempistiche diverse, c'è stato un susseguirsi di interventi, quindi è stato prezioso sicuramente l'operato da parte degli operatori sanitari. E' chiaro che in tutto questo era fondamentale anche un lavoro di coordinamento per consentire e mettere tutti d'accordo in maniera tale da poter arrivare a questo grande risultato. Si è trattato di donatori di età e città diverse. Prima esperienza a Padova nell'arco delle 36 ore, ma non sarà l'ultima, per dare una speranza più forte a chi è in attesa di trapianto. Noi siamo sempre pronti, il lavoro di medici, 120 persone che si sono occupate di questa maratona trapiantologica per dare un numero che dà l'idea di quanto impegno ci sia di fronte a questi eventi. Naturalmente a monte di tutto dobbiamo ricordare l'importanza della cultura della donazione.